E' andata bene, è stato nominato il perito di parte da parte del GIP, il pubblico ministero ha nominato la dottorissa Scimmi, che è sinonimo comunque di alta garanzia, quindi per quanto riguarda ha preso 90 giorni il perito professore Giardina, quindi l'inizio delle operazioni peritali inizieranno l'11 luglio alle ore 14 presso il laboratorio di medicina di Roma a Tor Vergata, ha chiesto 90 giorni ed è stata rinviata l'udienza il 21 ottobre. E voi siete tranquilli sull'esito di questa verifica? Sì, è stato esteso anche al contenuto dei vestiti della povera Pierina e nonché al contenuto della Borsa. Siamo tranquilli, certamente, siamo tranquilli, Emanuela ribadiamo è persona offesa, quindi siamo tranquilli e siamo fiduciosi nel lavoro della Procura. Grazie.